buongiorno buongiorno a tutti spero come sempre vada tutto bene sicuramente verranno tempi migliori per tutti noi incrociamo le dita e pensiamo anche al movimento che è molto importante ieri vi ho lasciato un video con una coreografia di reggaeton siamo stati a quanto ricco oggi ci tocca andare alla repubblica dominicana perciò faremo una coreografia di merenghe che potete seguire come dico sempre da casa oggi domani quando volete da soli in compagnia importante sempre il movimento ragazzi vi saluto un abbraccio virtuale e buon divertimento 1,2,3 1,2,3 e noi stiamo bailando bergando 1,2,3 e noi stiamo bailando bailando 1,2,3 e noi stiamo bailando bailando 1,2,3 Spacito, toito, toito, un po'quito Lo baila suavecito, che lo quiere bailar Spacito, toito, cambia ese ritmito Lo baila despacito, che lo quiere bailar Dale pa' abajo, dale con la mano arriba Dale pa' abajo, dale con la mano arriba Dale con la mano arriba Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Quando lo facciamo bailando, bailando 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 Despacito, vito, vito, un poquito Lo baila suavecito, que lo quiere bailar, ya, ya Despacito, vito, cambia ese ritmito Lo baila despacito, que lo quiere bailar, ya, ya, ya Cuando lo facciamo bailando, bailando 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 Bailando Bailando